Il Sacro Monte di Europa è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 2003, insieme ad altri sei Sacri Monti Piemontesi. Questo perché l'architettura sacra, all'interno di un paesaggio naturale, si dice abbia raggiunto la sua più alta espressione nei Sacri Monti dell'Italia settentrionale e abbia influenzato i successivi sviluppi del resto d'Europa. Quest'anno, per celebrare il ventesimo anniversario del riconoscimento UNESCO, Europa offrirà ai visitatori, a partire dal primo di luglio, visite guidate e concerti. I turisti potranno seguire delle guide esperte che porteranno a scoprire il Sacro Monte con l'apertura eccezionale delle cappelle, per ammirare statue e dipinti straordinari. Il percorso si svolgerà attraverso il bosco, partendo dalla Cappella dell'Immacolata Concezione di Maria fino all'ultima dell'Incoronazione, con la spiegazione di come le dodici cappelle, costruite tra il 1620 e il 1720, hanno coinvolto numerosi artisti, seguendo gli schemi del teatro popolare e le tradizioni delle sacre rappresentazioni medievali. Inoltre, ogni domenica verranno condotti i visitatori in un itinerario ancora più particolare. Si potrà infatti entrare al santuario dove si trova la Madonna Nera incoronata con il manto della misericordia, vedere quindi i corridoi ricchi di Exvoto, il Museo dei Tesori e gli appartamenti reali dei Savoia. Altri tre importanti appuntamenti saranno sabato 15 luglio, sabato 5 e 26 agosto, durante i quali si potrà essere accompagnati al cimitero monumentale, per scoprire le sculture funerarie di importanti personalità, come Quintino Sella. I concerti e gli eventi serali comporrenderanno diversi momenti sparsi durante la settimana. Uno dei più suggestivi sarà sabato 19 agosto, con il concerto d'arpa sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore, senza dimenticare le visite notturne alla cupola illuminata, ogni sabato fino al 5 di agosto. Europa apre così le porte al mondo, per far riscoprire le sue bellezze e spiegare così il perché di una tale onoreficenza ricevuta 20 anni fa.